Il mio rammarico sono stati quei primi 15 minuti, 16 esattamente del secondo tempo dove la squadra non siamo rientrati in campo con la stessa attenzione del primo tempo e devo capire perché perché poi comunque c'è stata una grande reazione con un gol, con una palla-gol clamorosa, con i giocatori che hanno fatto di tutto per pareggio alla partita e questa è la chiave come ha detto giustamente lei. Bisogna ripartire dalle cose positive che ci sono state, analizzare quelle non positive che abbiamo avuto e capire che bisogna sempre essere attenti e non mollare mai niente. Io direi che a parte i primi 16 minuti del secondo tempo sì e non dimentichiamo anche una cosa che può essere anche determinato dalla forza dell'avversario perché se è vero che anche noi abbiamo avuto poi una reazione di 16-20 minuti dove abbiamo creato tanto e non è perché loro sono calati ma perché siamo stati più forti noi. Quindi nel gioco del calcio c'è anche da considerare l'avversario.